salve ragazzi qui oggi andiamo a vedere un video strano sul mio vecchio canale che ha furato un zai e non prendete in giro ovviamente sulla mia voce altrimenti vi ammazzo comunque iniziamo wow questo video eh sì bello erica ciao questa voce è così da bambino che nessuno mi giudica ehi bo si parli poi voglio vedere una altra cosa ehi oh no 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 BANANA! 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 Ma che che... Va bene, questo... All today! Ok, andiamo ancora a tempo. Sono un bambino! AHHHHH! Sono un bambino, ecco! Sono un bambino! AHHHHH! LOL! Che ragazza è Batman! Oggi sono andati qui! E' un bambino! Allora, Bob! Non parlo così! Sono serio! Non sono neanche spagnolo! Allora, Bob... Dunque, Bob... Stuart! Scusatemi, ripeto! Stuart! St... Stuart! Una tua volta, e poi basta, dai! Ha 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 ha! Stuart! St... Ha 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 ha! Ha 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 ha! Va basta, basta! Sono due tanti... Sto a cosa... Ma... Si, ti ho fatto un bacione. Non ti ho fatto giocare! Ma... Ma... Voi... Sto a... ma va bene, perchè dovrò un giorno riuscirà a scoprire il prossimo episodio italiani da 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 allora sei da con me aah oh va bene, adesso un altro e poi basta qua ragazzi aah 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 àah aah or no ... ... ... ... E L approved! Ma che è questa ultima post e basta? no 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 lol ci vediamo questo video bello